Siamo all'inizio del nuovo anno, tra poche ore il nuovo anno incombe su di noi, fuoriero di novità, di speranza, di attese, ma lo sguardo, l'attenzione e la riflessione non può non andare al mondo intero, dove non sempre, né dappertutto e né per tutti, è un momento di gioia. Non mancano le tensioni e le ombre sull'orizzonte e sulle frontiere di chi vive con particolare drammaticità l'inizio di questo anno. Papa Francesco ci ha consegnato un messaggio per edificare la cultura della pace, a partire dalla cultura della non violenza che può generare condivisione, sostegno, coordinamento, prossimità e aiuto. E così l'augurio è che insieme la risoluzione non conflittuale delle differenze possa essere per ciascuno di noi un impegno. Il nuovo anno che si apre possa essere una prospettiva di speranza per le famiglie, per i giovani, per quanti cercano il lavoro, per chi ha perso la casa, per chi ha perso gli affetti, possa il nuovo anno, con la benedizione della Beata Vergine Maria, la Madre di Dio, alla quale consacriamo il primo giorno dell'anno, essere l'inizio di un impegno, di una vita nuova. Auguri e buon anno a tutti.